Ciao ragazzi e ciao ragazze Zoe, vieni qui Vieni Zoe, vieni Devo venirti a prendere io? Vieni qua Diventerai una star ora Zoe, ne sei consapevole Ciao amore Patatina Questo trufoletto Bella Provando a fare la nanna Zoe Ciao ragazzi e ciao ragazze Benvenuti o bentornati sul mio canale Io sono Siglia e oggi un nuovo video Ragazzi come al solito vi ricordo che se avete piacere Potete anche seguirmi su Instagram Ma soprattutto vi ricordo che è uscito il mio shop Vi lascio tutte le informazioni qui sotto nell'info box Detto questo, diamoci dentro col video Sono qui per parlarvi di un caso Che mi avete richiesto tramite il Google Docs Oggi voglio parlarvi del caso di Jennifer Sterlecchini Siamo a Pescara, in Abruzzo E la nostra storia inizia nell'estate del 2013 Quando Jennifer, la protagonista di questo caso Sta facendo una passeggiata sul lungomare Con i suoi amici È così che conosce casualmente Davide Trolio Lei ha 23 anni, mentre lui ne ha 29 Davide è insieme a un altro gruppo di amici di Jennifer Quindi ne approfitta La nota immediatamente le piace parecchio E quindi si presenta Jennifer rimane ugualmente affascinata da Davide Le piace davvero tanto sia fisicamente che caratterialmente Si sa, all'inizio di ogni storia si vive un periodo di felicità assoluta Ed è in effetti quello che succede anche a Davide e a Jennifer C'è però da dire che quando Davide incontra Jennifer Sta affrontando una separazione Il ragazzo ha sofferto molto per la fine del suo matrimonio E l'incontro con Jennifer gli dà la speranza di poter rincominciare I due ragazzi quindi per i primi giorni si sentono spesso Poi iniziano a frequentarsi Fino a mettersi insieme Tutto ciò avviene in davvero pochissimo tempo La loro storia nasce con estrema semplicità Ora però dobbiamo fare un passo indietro Chi è Jennifer? La ragazza nasce a Pescara nel 1990 Ed è la seconda di due figli Suo padre fa l'educatore in una comunità per persone con problemi di dipendenza Mentre sua madre Fabiola fa la casalinga Jennifer cresce in una famiglia molto unita Da piccola è una peste Non dorme, balla in continuazione È una bambina molto energica E non sta mai ferma È sveglia, solare, gioiosa E più cresce Più suo fratello maggiore Jonathan si affeziona a lei Intanto il tempo passa Jennifer cresce Si diploma E decide di studiare lingue all'università Ha moltissimi amici Ma resta una ragazza molto legata alla sua famiglia In particolare passa molto tempo con suo fratello Jonathan A casa di Jennifer il clima che si respira è molto sereno Certo i problemi non mancano Ma grazie all'affetto profondo che lega tutti Si supera ogni cosa Jennifer ama molto suo padre È molto legata a lui Le trasmette fin da piccola La passione per la musica È una grande gioia di vivere Il fratello di Jennifer fa i DJ in dei locali a Pescara E spesso durante le serate invita Jennifer a seguirlo Insieme si divertono sempre moltissimo Tra loro c'è complicità Si vogliono tanto bene Hanno proprio un rapporto speciale A Jennifer piace così tanto la musica ed il ballo Che decide di iscriversi ad un corso di danza del ventre È una ragazza molto dinamica piena di voglia di fare e di sperimentare Chi è invece Davide? Il ragazzo di cui Jennifer si innamora follemente? Davide nasce a Pescara nel 1984 È il secondo di due figli e cresce in un contesto familiare caratterizzato da uno stile educativo molto rigido Il padre di Davide, un maresciallo dei Carabinieri, muore a 40 anni A causa delle complicazioni di un'operazione chirurgica E il rapporto tra Davide e suo padre influirà tantissimo sul carattere del ragazzo Davide fa il tecnico ascensorista E nel suo ambiente lavorativo è molto apprezzato Ma c'è di più Il ragazzo è già padre di un bambino nato da una relazione precedente Quando conosce Jennifer è stato lasciato da sua moglie da davvero poco tempo Davide in effetti vive la separazione come un evento molto traumatico Ma non ha alcun tipo di reazione Reagisce alla separazione dalla moglie con l'instaurare immediatamente una nuova relazione In tal modo non affronta mai il trauma abbandonico Bensì prova a colmare quel vuoto buttandosi in un'altra relazione a capofitto E in effetti la relazione tra Davide e Jennifer inizia con una grande passione I due ragazzi pare che si amino davvero tantissimo Passano la maggior parte del tempo libero assieme E decidono quindi immediatamente di andare a convivere Jennifer quindi rappresenta una figura che Davide Fa entrare tempestivamente nella sua vita appena dopo la separazione La separazione è un evento che Davide non ha assolutamente elaborato Vuole solo urlare al mondo esterno che le sue possibilità non sono finite E forse lo vorrebbe anche urlare in faccia alla sua ex moglie Prima della fine dell'estate Jennifer decide definitivamente di andare a convivere con Davide In un'abitazione al confine tra Pescara e San Buceto Più precisamente in via Acqua Torbida A distanza di un paio d'anni nella vita di Jennifer arriva il primo grande dolore Suo padre una mattina di giugno del 2015 Si suicida lanciandosi da un cavalcavia sulla A41 ad Ortona Purtroppo nessuno si sa spiegare questo gesto estremo dell'uomo Non ha lasciato un biglietto d'addio né niente del genere A questo punto Jennifer inizia davvero a stare male Piange spesso E porta con sé una malinconia che non riesce proprio a strapparsi di dosso E ahimè Davide non l'è d'aiuto Da quel giorno Jennifer cambia rimediabilmente E ahimè spesso il dolore divide Ognuno si chiude in sé stesso E la comunicazione diventa sempre più difficile Questo è ciò che succede a Jennifer In apparenza è rimasta la ragazza vitale di sempre Ma questa forza è in realtà una maschera che indossa quotidianamente La sofferenza per questo lutto Rende profondamente diverso anche il rapporto tra lei e Davide Condizionandolo irremediabilmente Il rapporto tra Jennifer e Davide dopo due anni va in crisi La ragazza non si sente capita, non si sente vista nel suo dolore Né si sente riconosciuta E per la prima volta pensa di poter fare a meno di Davide Così nel luglio del 2015 Jennifer torna ad abitare a casa con sua mamma Nel tempo la ragazza ha maturato esigenze ed obiettivi diversi Rispetto a quelle di Davide, del suo ragazzo Infatti vuole sfruttare la sua laurea in lingue E sogna di andare a fare l'Erasmus in Spagna Jennifer vuole ritrovare se stessa anche dal punto di vista lavorativo Non si sente soddisfatta perché aveva studiato tanto E aveva investito tanto per il suo percorso di studi Di conseguenza vorrebbe intraprendere una carriera come migliatrice linguistica Jennifer quindi torna a casa, rincomincia ad uscire con le sue amiche Va spesso a sentire suo fratello suonare E poco dopo Davide torna all'attacco Il ragazzo la coglie alla sprovvista anche in pubblico Perché non fa scena di gelosia Bensì si mette a piangere disperato La prega di tornare con lui Le dice che la ama tanto e che sbagliando L'ha data troppo per scontata La ragazza a questo punto cede E accetta di tornare con Davide Ovviamente la famiglia di Jennifer non è proprio d'accordo Con la scelta della ragazza Sia sua madre che suo fratello le consigliano Di prendersi del tempo per se stessa Per riflettere su questa scelta Ma Jennifer dice che ci ha riflettuto Vuole dare un'altra possibilità Sia a Davide che a se stessa C'è da sottolineare che la relazione tra i due ragazzi Non è affatto equilibrata Vivono la relazione in modo altalenante Ci sono periodi di crisi Intervallati da periodi di riconciliazione Quindi si lasciano e poco dopo tornano insieme A casa sua Jennifer parla poco di questa situazione Non dice quasi nulla neanche a suo fratello Con cui di solito si confidava Così la famiglia di Jennifer Pensa che tra i due ragazzi non ci siano problemi Davide ci mette due mesi per riconquistare Jennifer La corteggia, le promette attenzioni e premure Ed è a questo punto che Jennifer decide Definitivamente di dare una seconda possibilità a Davide Così i due ragazzi tornano a vivere assieme All'inizio le cose vanno benissimo Davide dà attenzione a Jennifer Non le fa mancare nulla Col tempo però Jennifer viene sommersa ad altri dubbi C'è qualcosa che non va in Davide Talvolta ha l'impressione che stia cercando di recitare un ruolo Per renderla felice Inoltre è parecchio geloso Un anno dopo la ripresa della convivenza con Jennifer Davide viene licenziato per motivi di riduzione del personale Intanto Jennifer discute la sua tesi di laurea in lingue È solita svolgere dei lavoretti saltuari Fino a quando non trova lavoro Come commessa in un negozio di scarpe Le piace molto lavorare lì Il personale è carino e gentile Insomma sembra che Jennifer Un minimo di equilibrio l'abbia trovato Il suo sogno è sempre quello di andare a lavorare in Spagna Ma per il momento in modo pratico Jennifer si accontenta di avere uno stipendio Che le permetta di essere indipendente A Jennifer inoltre piacciono molto le scarpe Quindi in poco tempo si rende conto che quel lavoro le piace davvero tanto Le piace stare a contatto con la clientela Le piace dare consigli ai clienti Insomma si vede che è una ragazza portata per stare a contatto con il pubblico Inoltre Jennifer stringe anche amicizia con una sua collega di nome Ludovica Per la ragazza quei giorni sono felici e spensierati Davide nel frattempo si rende conto che Jennifer grazie al lavoro è per l'appunto diventata più indipendente Ha uno stipendio, può permettersi di uscire con delle sue amiche senza avere troppe preoccupazioni Ed è a questo punto che il ragazzo inizia a controllarla Le manda messaggio a Raffica chiedendole Dove sei? Con chi sei? Dove devi andare? Ti incontrerai per caso con qualcun altro? No? Sicura? Jennifer a questo punto inizia a sentirsi in gabbia E non sa proprio come comportarsi con Davide Gli ha dato una seconda possibilità Ma a questo punto sembra che il ragazzo Si stia comportando in modo peggiore rispetto a quando sono state insieme per la prima volta Per Jennifer a questo punto inizia un periodo davvero stressante Perché Davide non le dà tregua Se va a bere un caffè con un'amica E si intrattiene 5 minuti in più Davide puntualmente inizia a mandarle un messaggio dietro all'altro A Raffica Inoltre Davide è solito anche spiare il profilo facebook di Jennifer E chiedere agli amici in comune Cosa faccia Jennifer? È andata a bere il caffè al bar con un'amica Certo ma siamo sicuri che ci sia solo quell'amica? Nessun altro ragazzo si è avvicinato a lei? Nessun altro ragazzo ha provato a parlarle? Ora qui c'è da mettere in chiara una cosa Davide non è mai stato legato da una relazione affettiva e significativa con Jennifer? Piuttosto è loro un rapporto caratterizzato da una dinamica di dipendenza affettiva Questa dipendenza affettiva molto alta Ha trovato gioco facile trasformando gelosia e preoccupazione In vera e propria ossessività, controllo e timore dell'abbandono Davide di base teme la presenza di un altro uomo Che non c'è A volte basterebbe parlare, confrontarsi, chiedere Ma per farlo ci vuole equilibrio e maturità Nel rapporto tra Davide e Jennifer manca sia l'equilibrio che la maturità Negli ultimi giorni del novembre 2016 Jennifer confida alla sua collega Che ha deciso di lasciare definitivamente Davide Basta, non ce la fa più È vero ci ha provato, ha messo tutta se stessa in quella relazione Ma ormai si sente soffocare, si sente in gabbia Ed è arrivata anche a provare fastidio nel dormire con lui nello stesso letto Jennifer si sente delusa perché Davide nei primi mesi di riconciliazione Si è comportato in un modo che non gli appartiene Ma col tempo, si sa, cade la maschera E la vera essenza di una persona emerge Così la ragazza torna definitivamente a casa di sua madre Lasciando però parecchi effetti personali a casa di Davide La ragazza le dice Giurami che mi avvisi Non vai da sola a prendere le cose da lui Ti accompagno anche io Jennifer di certo non pensa al peggio Ma è felice di avere un appoggio Non solo da parte di sua madre Ma anche da parte di una sua collega Sembra comunque che Davide accetti questa situazione Infatti dice a Jennifer testuali parole Guarda, va bene, se non sei felice vuol dire che io Non riesco a renderti felice Quindi è meglio se ti lascio andare Arriva però ben presto una mattina In cui Jennifer e sua madre sono in giro a fare compere E si rendono conto che Davide le sta seguendo La ragazza a questo punto si preoccupa Vuole subito tornare a casa Perché inizia a provare un certo timore nei confronti di Davide Purtroppo questa situazione si ripete più volte Ma Jennifer e sua madre seppur preoccupate Non sporgono mai denuncia Arriva il 2 dicembre 2016 E Jennifer deve tornare a casa di Davide Per recuperare i suoi effetti personali Tantissime cose in quella casa le ha comprate lei Con i suoi soldi Mentre Davide non lavorava Quindi giustamente vuole riprendersi ciò che è suo Sua madre sapendo i comportamenti messi in atto da Davide nell'ultimo periodo Dice a Jennifer Tu da sola là non ci vai Ti accompagno io È vero non c'è mai stata violenza Lui non ti ha mai alzato le mani Però essere prudenti non è mai peccato Jennifer ovviamente accetta di essere accompagnata a casa di Davide Sia da Ludovica La sua collega Che da sua madre La mattina del 2 dicembre 2016 Jennifer e Ludovica si incontrano vicino al negozio in cui lavorano Col fine di prendere il furgoncino del negozio Lo hanno chiesto al titolare Proprio per effettuare il trasloco Le due ragazze quindi aspettano che arrivi anche la madre di Jennifer Con la sua macchina E poi partono tutte insieme Verso casa di Davide Davide intanto è a casa Sta aspettando Jennifer Le ha già preparato gli scatoloni dove mettere i suoi effetti personali Ma non sa che ad accompagnarla ci sarà sia sua mamma che la sua collega Una volta arrivate da Davide La madre di Jennifer, Fabiola Non ha intenzione di lasciare la figlia sola con il ragazzo Neanche per un minuto Tanto che chiede anche alla collega Ludovica di stare attenta Le dice Mi raccomando Non dobbiamo mai lasciarla sola Jennifer in tutto ciò è molto tranquilla Riempie gli scatoloni con tranquillità Dice anche a sua madre Quando abbiamo finito andiamo tutti insieme a mangiare fuori Poi io alle 16 devo tornare a lavoro con Ludovica Jennifer è tranquilla perché non ci sono stati segnali o avvisaglie Che potessero generare in Jennifer stessa dei timori Di poter essere oggetto di aggressione da parte di Davide Il trasloco inizialmente si svolge nella massima tranquillità Davide si dimostra collaborativo e aiuta le tre donne a riempire gli scatoloni Jennifer in quella casa ha così tante cose Che col furgone devono fare più di un viaggio per portare via scatoloni e valigie Quella mattina dopo aver fatto l'ultimo carico Ossia il terzo La mamma di Jennifer, Fabiola, sposta la macchina Davide a questo punto chiede alla collega di Jennifer, Ludovica Di rimanere davanti alla fotocellula del cancello per non farlo chiudere Infine chiama Jennifer dicendole che è rimasta una valigia Che deve riempire con gli ultimi vestiti che le sono rimasti Così la ragazza sale ed entra in casa di Davide Da sola Ovviamente Jennifer non percepisce alcun pericolo dopo tutto quel tempo passato assieme Hanno passato insieme un'intera mattinata La ragazza quindi entra in casa tranquillamente Piega i pochi vestiti rimasti Li mette in valigia e infine afferra un tablet A questo punto Davide per la prima volta scatta e risponde in modo secco No Jennifer, quello? No, il tablet proprio non lo prendi Jennifer lo guarda e le dice Ma che dice? È mio, l'ho comprato io Davide a questo punto risponde No, quello è mio, è mio, mi serve Jennifer ribatte Scusami ma tu hai il computer Puoi usare quello? Io no E poi comunque questo tablet l'ho comprato io Me lo ricordo benissimo Davide a questo punto va totalmente fuori di testa E inizia ad aggredire prima verbalmente e poi fisicamente Jennifer La picchia, le rompe una mascella E infine la colpisce con 17 coltellate Nel frattempo la collega di Jennifer, Ludovica e sua madre Sentono le urla della ragazza Si precipitano verso l'entrata ma la porta è chiusa E non c'è modo di aprirla Fabiola, la madre di Jennifer Urla di tutto mentre sente sua figlia chiedere aiuto Dice addirittura a Davide Hai anche tu un figlio ma come puoi ma pensa a tuo figlio L'ultima frase che sente Fabiola pronunciata da Jennifer è Mamma ti prego aiutami mi sta ammazzando Da questa casa io non ne esco più Non voglio neanche immaginare cosa possa provare una madre Che riesce a sentire la propria figlia Urlare al di là di una maledetta porta chiusa una frase del genere Non lo voglio neanche immaginare ve lo giuro mi metto i brividi Di colpo né Fabiola né Ludovica sentono più Jennifer urlare Ludovica continua a sperare per il meglio ma Fabiola ahimè capisce subito Capisce che Jennifer non c'è più Ha smesso di lottare Ha smesso di chiedere aiuto Successivamente Davide va in bagno e si ferisce all'addome da solo con lo stesso coltello con cui ha colpito Jennifer Poi 4-4 va a riaprire la porta d'entrata e infine si sdraia accanto a Jennifer posizionandole il coltello tra le gambe Intanto Fabiola la madre di Jennifer ha perso conoscenza e Ludovica cerca in tutti i modi di farla riprendere Appena Fabiola riprende conoscenza vede due ragazzi o meglio due vicini che accorrono alla casa La porta d'entrata che prima sembrava invalicabile si apre I due vicini dicono a Fabiola Signora ora la porta è aperta vuole entrare? Fabiola risponde No io lo so cosa è successo la porta era chiusa me l'ha ammazzata mia figlia I vicini dopo aver trovato i corpi di Daniele e Jennifer chiamano i soccorsi L'ambulanza corre sul luogo e dopo aver constatato la dipartita di Jennifer Gli operatori sanitari trasportano Davide in ospedale Intanto la madre di Jennifer viene allontanata affinché non veda l'immagine di sua figlia assassinata A presidiare la scena del crimine ci sono i carabinieri in attesa del magistrato E ben presto accorre anche il fratello di Jennifer che è stato avvisato da un'amica Apprende la tragica notizia solo una volta arrivato alla villa di Davide Durante l'interrogatorio Davide fornisce una versione dei fatti molto ma molto diversa dalla realtà Davide racconta che lui e Jennifer stavano discutendo riguardo un tablet Che è di sua proprietà ma che Jennifer voleva portare con sé Davide racconta che dopo questa litigata Jennifer si sarebbe auto ferita per suicidarsi Precisa che lui le ha preso il coltello dalle mani E a sua volta si è ferito al collo per suicidarsi anche lui Jennifer sempre secondo la ricostruzione di Davide a questo punto avrebbe preso il coltello Col fine di ferire Davide Solo alla fine per reazione Davide avrebbe colpito Jennifer Questa è una dichiarazione contorta, poco chiara Che viene prontamente smentita dalla perizia del medico legale No, non è stata Jennifer ad auto ferirsi È stata Davide a ferirla Non solo l'ha picchiata ma l'ha anche finita con 17 coltellate E a me dispiace dirlo, non sono una detta ai lavori, non sono un'esperta, non sono una giornalista Ma chi potrebbe mai credere che una persona abbia colpito un'altra persona per 17 volte Con un coltello per reazione? È un po' improbabile Questa versione in pratica fa acqua da tutte le parti Non ha assolutamente senso di esistere Nei giorni successivi all'omicidio Jonathan, il fratello di Jennifer, durante una manifestazione in sua memoria Lancia un messaggio molto importante di condanna della violenza sulle donne Queste sono le parole di Jonathan Io di Jennifer ero il fratello Con lei ho condiviso i giochi Con lei ho condiviso i sogni Io di Jennifer ero il fratello e l'amico Oggi dopo tutto quello che è accaduto sono il fratello e l'amico di tutte le donne uccise da mani maschili Di tutte le donne maltrattate da mani maschili Io sono un uomo E dico basta Quelle mani omicide uccidono anche il mio essere Perché io sono un uomo e voglio urlare insieme a tutte le donne e a tutti gli uomini Non una di meno Ai funerali di Jennifer partecipa tutta la città di Pescara Al processo ovviamente la famiglia di Jennifer chiede a gran voce giustizia Ma giustizia quella vera Lo scontro tra accusa e difesa riguarda tre punti La capacità di intendere e di volere di Davide al momento del fatto La sua pericolosità sociale E la premeditazione dell'omicidio Se per la pubblica accusa Davide è perfettamente in grado di intendere e di volere Non lo è secondo il suo avvocato difensore e secondo la consulente di parte Che ritengono Davide affetto di disturbo di personalità di tipo borderline Per l'avvocato della famiglia di Jennifer Davide sapeva quello che stava facendo Non solo sapeva quello che faceva ma sapeva anche quello che voleva ottenere Davide era lucido perché si era già prefigurato cosa dire subito dopo il fatto I giudici accolgono la tesi del pubblico ministero E in primo grado, con rito abbreviato Condannano Davide alla pena di 30 anni di carcere e 3 anni di libertà vigilata La corte d'assise d'appello di Perugia Recentemente ha confermato la sussistenza dell'aggravante dei futili motivi Quindi la condanna a 30 anni di carcere per Davide Viene confermata La famiglia di Jennifer sta luttando per eliminare La possibilità del rito abbreviato dinanzi a crimini come questi In quanto c'è uno sconto di pena che non può più esistere Basta E io sono d'accordo con la famiglia di Jennifer A distanza di un anno il fratello di Jennifer Jonathan scrive un post su Facebook per raccontare la sua storia Jonathan scrive Voglio per una volta utilizzare questo mezzo di comunicazione e arrivare a voi Cercando in qualche modo di entrare nei vostri cuori Ma dovrò essere duro Come la mia vita e quella della mia mamma lo è stata con noi In una tarda mattinata, poco prima di pranzo, ti arriva una chiamata Joe, forse è il caso che viene a casa di tua sorella Sta succedendo qualcosa Quel qualcosa significa massacrata di botte con la mandibola rotta E non solo Diciassate coltellate Nonostante ciò non è morta subito Quindi ha pure sofferto In questi anni tutti mi fanno e ci fanno la stessa domanda Ma come fai? Come fate ad andare avanti? Sinceramente non lo so E non lo voglio neanche sapere Perché fino a che riesco ad andare avanti Mi sta bene così Una cosa però voglio dirvela E qui arrivo al punto A volte mi capita di ascoltare persone e lamentarsi e sentir dire La mia vita fa schifo Io non riesco più ad andare avanti Eccetera Per carità i problemi li abbiamo tutti Chi più di me può esserne consapevole Ma la vita è una E io voglio portarla a termine E lo voglio fare per mia sorella Per mio papà Per tutte le vittime uccise per mano maschile Ma non solo Per tutti quelli che avrebbero voluto vivere quella vita E che in un modo e nell'altro non hanno potuto E non per causa loro Rispettate la vita La vostra vita Perché nonostante tutte le difficoltà Voi potete ancora viverla L'amore ormai è una parola dimenticata da tutti Dovremmo tornare ad amare Tutto e tutti Incondizionatamente Perché l'odio e la violenza Si sconfiggeranno solo in questo modo E se mai un giorno dovesse avere dei bambini La prima cosa che gli insegnerò Sarà proprio questa Amate E fate del bene Mia sorella al posto mio Avrebbe fatto lo stesso Oggi più che mai Mi accompagnerà il suo sorriso I suoi capelli lunghi E la sua risata Ad ogni mia battuta Io non sento di aggiungere altro Voglio chiudere questo video Con le parole di Jonathan Quindi Ragazzi ragazzi Io ho finito di parlare In questo video Spero vivamente che questo video Possa essere per voi interessante Spero di avervi anche fatto conoscere Una storia che magari Non conoscevate troppo bene Spero di avervela fatta approfondire Ancora di più Insomma Questa storia è davvero terribile Perché ve lo dico con estrema onestà Neanche io mi aspettavo un finale del genere Ve lo giuro Detto questo Fatemi sapere quello che volete Qui sotto nei commenti Conoscevate questo caso Fatemi sapere quello che volete Qui sotto Io nel frattempo vi mando Un bacione Noi ci vediamo prestissimo Al prossimo video Mi raccomando fate i bravi E continuate a mangiare le verdure Che continuano a far bene Ma soprattutto Fate ciò che vi rende felici E prendetevi cura di voi Ciao ragazze Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Grazie a tutti